Ok, partiamo. Buongiorno a tutti, in questa nuova lezione andrò a spiegare come si crea un'attività di coaching. Se mi conosci da poco, io mi chiamo Musamara, nel 2019 mi sono lanciato come fitness coach. Se mi vai a vedere sui miei canali social ho avuto molto traffico, ho creato comunque un grosso pubblico. Su TikTok 75.000, su Instagram ero arrivato a 20.000, su Instagram YouTube 4.000 iscritti. Ho totalizzato in circa due anni più di 300 clienti che mi pagavano all'incirca un trimestrale 750, poi ovviamente rinnovavano. Quindi puoi capire che ho ottenuto discreti risultati e nel 2022 ho creato un programma di performance che sono andato a vendere a imprenditori online, spazi e-commerce, agenzie di marketing, Airbnb, del valore di 3.000 euro. Quindi ero diventato un coach che veniva pagato migliaia di euro e lì diciamo che ho fatto il mio salto di carriera come personal trainer, come coach. E nel 2023 ho lanciato questo nuovo consulting business, che è un business in insegnamento per aiutare personal trainer e preparatori atletici a posizionarsi online. Perché l'ho fatto? Ho fatto semplicemente perché nel 2022 due ragazzi mi hanno scritto di loro spontanea volontà, gli piaceva il mio profilo, volevano fare la stessa cosa che stavo facendo, quindi li ho aiutati e in meno di sei mesi hanno ottenuto dei risultati davvero molto molto notevoli. Infatti se vai a vedere nel mio profilo, uno si chiama Giulio Sembinelli, preparatore specializzato nel calcio e l'altro è Demeledrissa, da zero in quattro mesi 60.000 follower, lavorava in azienda, ha lasciato il suo posto di lavoro per dedicarsi completamente all'online, ovviamente ha lasciato il suo posto di lavoro perché stava guadagnando molto di più dall'online, quindi era una scelta da fare. Quindi puoi andare a vedere le loro video testimonianze sul mio profilo. E niente, direi di iniziare subito con questa lezione. Allora, come si crea un'attività di coaching? Magari tu non conosci niente dell'online, non hai nessuna competenza, quindi ti trovi un attimo in confusione sulle azioni pratiche che dovresti fare ogni singolo giorno. Bene, in questo video ti darò chiarezza. Partiamo dal primo punto. Content. Allora, devi andare a capire quale piattaforma utilizzare. Ok, tendenzialmente si utilizza Instagram, TikTok, inizialmente per contenuti in forma breve. Quindi come puoi vedere qua, andiamo ad allargare un attimino. Content. Ok, nel momento in cui pubblichi un contenuto su una piattaforma che può essere Instagram o TikTok, il contenuto ti va a creare traffico. Viene visto da persone, magari da 200 views, sono 200 persone che l'hanno visto, 5.000, 10.000. Ok, bene, quindi hai del traffico, hai degli occhi che guardano la tua pagina lavorativa. Perché il tuo profilo lo devi vedere come un negozio, come una vetrina. Ok? Perché tu puoi andare a vendere un servizio. Ovviamente con i contenuti organici tu non puoi dire al mese avrò 800.000 visualizzazioni che vedono la mia pagina lavorativa. Non lo sai, ti può andare a virare un video, ti può non andare a virare un video. Quindi diciamo che il traffico che tu hai, che generi dalle tue pagine, non puoi controllarlo. Ok? L'unica cosa che puoi controllare è quanti contenuti vai a pubblicare. Però non è che se pubblichi più contenuti per forza delle cose avrai più traffico e neanche in target. Perché non puoi decidere che il contenuto che va pubblicato nella piattaforma, se va ad esempio se è un preparatore autetico, boom, metto il contenuto, queste 100.000 visualizzazioni sono calciatori, tutti i miei potenziali clienti che vorrebbero comprare la mia offerta. Non lo puoi fare, non puoi controllare questa cosa qua. Quindi come potete vedere, l'organico sì va bene, si può costruire un'attività in organico. I clienti con cui ho lavorato nel 2022 ora hanno creato tutta l'attività in organico senza spendere un euro in ads e attualmente vanno a generare più di 70.000 euro all'anno. Però un pochino le cose sono cambiate perché il mercato cambia in fretta. Quindi questo è per farti capire un attimo l'idea del contenuto organico. Ovviamente se sei all'inizio parti da lì se non hai soldi per le ads. Detto questo, una vera attività ha sempre le pubblicità attive, ok? Infatti dopo che tu vai a pubblicare i contenuti, quindi pubblici ogni singolo giorno i tuoi contenuti, quindi vai a trarre del traffico organico, devi implementare anche la pubblicità. Perché? Perché con la pubblicità tu stai comprando delle visualizzazioni, uno spazio pubblicitario e quindi vai a controllare, potenzialmente puoi dire io voglio 400.000 visualizzazioni nella mia pagina lavorativa di persone in target, tu lo puoi fare, lo puoi controllare con la pubblicità a pagamento, ok? E puoi indirizzare la tua pubblicità verso persone che potenzialmente vogliono comprare la tua offerta, ok? Quindi un'attività che sta andando bene, se vai a controllare, ha le ads attive. Queste sono le due fonti di traffico per un'attività di coaching. Ovviamente il contenuto può essere pubblicato su YouTube, Instagram e TikTok, quindi hai il traffico da tre piattaforme in organico. Invece la pubblicità magari c'è attivo sia su Instagram che su Facebook o su TikTok, quello dipende. Tendenzialmente io mi muovo con i miei clienti, traffico andiamo a comprare solo su Instagram, ok? Perché si possono fare molti molti guadagni. Quindi poi se vuoi puoi implementare anche la pubblicità di pagamento di TikTok. Quindi fonti di traffico sono due, content organici e ads a pagamento. Detto questo, l'obiettivo è avere una pagina lavorativa che cresce nel tempo in termini di follower, perché i follower sono i tuoi potenziali clienti. Bene, quindi l'obiettivo è essere sicuri che la tua attività sta crescendo in termini di follower, potenziali clienti che seguono la tua pagina lavorativa e quindi consumano i tuoi contenuti. Perché una persona non è che ti vede e boom subito compra. Ha bisogno di un tempo di incubazione, ha bisogno del tempo, ha bisogno di studiarti. È per questo che noi andiamo a creare i contenuti. Esempio, una persona mi potrebbe dire, eh allora io faccio solo pubblicità, così non sto lì a perdere tempo con i contenuti, ma i contenuti sono molto molto importanti, perché educano e con i contenuti tu puoi far capire effettivamente le competenze che tu hai. Per questo che andiamo a pubblicare i contenuti. I contenuti servono per educare il nostro potenziale cliente, far capire chi siamo, far capire le nostre competenze, ok? Per far sì che la persona ci scelga. Quindi una pagina business comunque che vende servizi, non per forza un preparatore atletico, qualunque persona vende servizi, se non ha una pagina in costante crescita, magari perché non sta cercando di scalare la sua attività, non sta cercando di aumentare le sue entrate. Poi ovviamente bisogna vedere anche il ticket, nel senso il prezzo dei suoi pacchetti, ok? Ad esempio io ho un'attività e ticket, Personal 3 è un'attività, possiamo definire, low ticket, quindi ha bisogno di molte più richieste per arrivare magari a 5.000, 10.000, ok? Rispetto magari ad un'attività e ticket non ha bisogno di tanti clienti. Bisogna anche andare a contestualizzare questa cosa qua. Però è importante per un personal trainer e un preparatore atletico che la sua pagina sia in costante crescita, siccome non vende servizi a 10.000 euro, ok? Detto questo, nel momento in cui noi riusciamo a trovare il sistema, quindi con i contenuti e con la pubblicità a pagamento, di far crescere la nostra pagina nel tempo, ok? Di giorno in giorno che ci seguono i nostri potenziali clienti, l'obiettivo è convertire questi follower in clienti. Bene. Prima della fase cliente, la persona può fare queste cose qua. Vi può contattare in chat, o voi potete magari utilizzare le storie per indirizzare le persone in chat, ok? Per poi andare a fissare un appuntamento. Detto questo, vuoi fare una chiamata normale o una video call? Io consiglio una video call, tutti i miei clienti fanno del video call. Video call di 30-45 minuti dove ascolti i problemi della persona e vai a proporre il tuo servizio. Ritorniamo indietro. Bene. Dovamo creare la nostra attività di coaching. Contenuti. Se hai la possibilità, pubblicità a pagamento, per velocizzare la pubblicità a pagamento ti velocizza le cose, ok? Tu puoi partire solo organico, ma sarà molto più lento. Vuoi velocizzare le cose? Se hai una struttura tutta ottimizzata, hai una buona impostazione del profilo, sai vendere, sai fare, ok? Puoi velocizzare con la pubblicità a pagamento. Se parti da zero, meglio che non usi la pubblicità a pagamento se non sei seguito da nessuno. Andresti a sprecare soldi. Quindi, content e pubblicità. Dobbiamo far crescere la nostra pagina lavorativa con persone potenzialmente in target, che hai potenziali clienti, che seguono la nostra pagina. Detto questo, utilizziamo i contenuti e le nostre storie per indirizzare le persone in chat o comunque ci saranno persone che ci scriveranno, ok? Di loro spontanea volontà. Andiamo a fissare una video call, ok? Di 30-45 minuti. E questo è il passaggio prima del cliente, persona che ci ha pagato. Perché nella video call andremo a chiudere la trattativa per far sì che diventi nostro cliente e lo possiamo aiutare a raggiungere i suoi goal fisici, perdita di immagri, perdita peso, aumento di massa muscolare o qualunque programma avete, ok? Tensialmente per un personale 3, un preparatore atletico, se sei una persona che non ha mai venduto prima, parti da un trimestrale da 300 euro, ok? Perché ovviamente magari non sai neanche seguire bene i tuoi clienti, ci sono ancora delle cose che non hai capito, il tuo servizio non è dei migliori, non sei neanche bravo a vendere, quindi magari 800 euro per un trimestrale ti sembra tantissimo e già questo, se ti sembra tanto un prezzo, quando tu vai a dirlo in una video call, la persona percepirà che per te è tanto. Quindi parti da 300 euro. Tendenzialmente i miei clienti che lavorano già da mesi con me, i loro servizi sono sui 600-700 euro un trimestrale, ok? Detto questo, poi c'è la fase di pagamenti ricorrenti. Nel momento in cui la persona ti ha pagato un trimestrale, lavorerà con te a tre mesi. Dopodiché il tuo obiettivo è farla rimanere nel tempo con te, fargli ottenere degli ottimi risultati e da lì ci sono i pagamenti ricorrenti. Quindi la persona, se tu hai venduto il pacchetto un trimestrale a 700 euro, quello che puoi fare per un pagamento ricorrente è abbassare un attimino il prezzo per far sì che la persona rimane nel tempo con te. Quindi un prezzo adeguato per far sì che una buona percentuale dei tuoi clienti rimanga nel tempo con te, ok? Potenzialmente dai 100-150 euro al mese. Quindi dovreste andare a chiedere alla persona. Poi ci sono coach, i miei clienti, che però andiamo a contestualizzare, hanno un forte posizionamento, sanno fare bene le cose, portano degli ottimi risultati, quindi possono andare a chiedere 200-250 euro al mese in maniera ricorrente per la persona, ok? Detto questo, facciamo un attimo dei calcoli, ok? L'incasso mensile è stimato per una persona che non ha un team, quindi fa tutto da solo e ha tutto il tempo, ok? Quindi non sta facendo altri lavori, ok? Può fare tranquillamente da solo, dai incassi, ok? Quindi i soldi che ti entrano in banca dai 4.000 ai 5.000 euro, non ti sto parlando di fatturato, ok? Incasso e fatturato è diverso, nel senso che magari hai un incasso di 5.000 euro, però il fatturato per la tua azienda è di 10.000, ok? Perché magari una persona ti paga, hai un servizio da 1.000 euro, però la persona chiede un ratizzamento, quindi tu incassi in banca al primo mese, non lo so, 600 euro. Quindi il fatturato è 1.000, ma l'incasso è 600, quindi se non lo sapevi te lo ho spiegato. Facciamo un calcolo, ok? Allora. Allora, lo faccio qua al cellulare. 3.000 euro, ok? Allora, facciamo che stiamo, ovviamente è difficile andare a stimare l'incasso di una persona, nel senso che può cambiare molto. Adesso vi faccio un calcolo su pagamenti ricorrenti. Facciamo che avete 30 clienti che vi pagano 150 euro al mese, se avete 10 clienti, 150 per 10, sei a 1.500 euro, ovviamente lavorando da casa, senza andare in palestra, ok? 150 per 30, sono 4.500 euro, ok? Con 30 clienti che ti pagano in maniera ricorrente, 150 euro al mese, sei a 4.500 euro, lavorando da casa, senza andare in palestra, e lavorando dove vuoi, ok? Facciamo caso che andiamo a parlare di un'ottica trimestrale, quindi dell'acquisizione, perché c'è acquisizione clienti, poi c'è cash flow, nel senso i pagamenti ricorrenti. Mese di gennaio, facciamo gennaio 2022, tu vai a chiudere tot pacchetti, quindi facciamo 10 pacchetti, quindi il trimestrale è sempre più il valore del trimestrale, inizialmente quando tu chiudi una persona è sempre più alto rispetto al pagamento ricorrente, facciamo che la chiudi a 500 euro per un trimestrale, chiudi 10 pacchetti, 500 per 10, se è 5.000 euro. Avendo un prezzo di 500 euro per un tuo trimestrale, tu chiudi 10 persone, non stiamo parlando di 800, 10 persone online, potenzialmente online, ci sono milioni, ci sono milioni di italiani, ok? Ti servono 10 persone per generare un fatturato di 5.000 euro, ok? Quindi 500 per 10 c'è 5.000 euro di fatturato, ok? Detto questo, ovviamente il trimestrale, voglio ripeterlo, è un po', lo fai più alto, ok? Dopodiché, la persona si trova bene, tutto, la devi far rimanere nel tempo con te, perché è questo la cosa importante per un persona in treno, capire la differenza tra acquisizione clienti e pagamenti ricorrenti, avere una base, perché la stabilità te la darà i pagamenti ricorrenti, non l'acquisizione clienti, non puoi basare un business solo sull'acquisizione di nuovi clienti, quindi dopo 3 mesi tutti ti lasciano, vuol dire che non sai fare il tuo lavoro, ok? E magari non hai sistemi di marketing, processi interni per far sì che la persona rimanga nel tempo con te. Quindi, se tu hai già parti online, magari ho dei clienti che hanno quei 20 clienti che li pagano 100 euro, quindi sono già 2000 euro di base ricorrente, perché nel tempo sono riusciti ad acquisire 20 persone che hanno continuato, quindi sei a 2000. Bene, quel mese però acquisisci nuove persone che entrano a lavorare con te la prima volta. Bene, 10 pacchetti vai a vendere, hai un servizio che vale 500 euro, quindi sulla base ricorrente che hai di 2000 vai a aggiungere altri 5000 di fatturato se hai 7000. Ok? Questo è per farti capire un attimo che la potenza del coaching è il fatto di basare su pagamenti ricorrenti e acquisizioni di nuovi clienti. Così la stabilità te la dà i pagamenti ricorrenti, persone che magari lavorano con te da 6, 12, 2, 1 anno, 2 anni e poi acquisizione clienti. Perché non puoi basare tutto sull'acquisizione clienti, ricordati. Detto questo, questo è per spiegarti un attimo come si crea un'attività di coaching. Con questo video ti ho dato chiarezza. Questi sono gli step, quindi content, pubblicità pagamento con l'obiettivo di aumentare la tua pagina di follower perché sono potenziali clienti, quindi la persona magari non compra questo mese qua e inizia a seguirti oggi però ti comprerà il mese prossimo. Quindi comunque buono. Obiettivo di generare call, video call, chiudere il cliente con un trimestrale dal minimo 300 ai 800 euro per un trimestrale e poi andare a fidelizzare il cliente con un pagamento ricorrente. Quindi un incasso stimato per una persona che fa tutto da solo ed è 4.000 5.000 Poi questo può cambiare che dipende da quanto sia organizzato cioè l'incasso dipende da quanto sei tanto da quanto sei organizzato ovviamente anche da se hai un business nel senso se sai fare le cose e mi sono messo qua le principali domande che un principiante un beginner si fa cioè i suoi problemi che tipo di content devo fare cioè personali preparatori atletici che non si sono posizionati mai online vorrebbero andare online non sanno che content fare o se li creano creano contenuti a caso la prima domanda che ti porrai è che tipo di content devo fare bene la seconda domanda è non sono capace di fare le ads terza che tipo di storie devo fare perché le storie sono molto importanti non ho mai fatto una video call di vendita quindi non sai vendere non sai come approcciarti quindi non ti sentirai a tuo agio 5.000 come devo strutturare il mio programma per seguire i clienti perché non hai mai seguito clienti online magari quindi queste sono le principali domande e ci sta perché non hai mai avviato un'attività di coaching quindi sono domande più che lecite ok allora allora vediamo se posso aggiungere qualcos'altro ora ovviamente in questo video spero che ti è stato d'aiuto se vuoi avviare la tua attività di coaching e non andare a perdere tempo nel senso che come avete visto ci sono tanti personali preparatori atletici che si buttano online però la vera domanda è quanto tempo sei disposto a andare online creare contenuti a caso senza una strategia senza un metodo perché tu lo sai già quando stai partendo sai già che non hai un metodo stai andando un po' ti stai gettando al buio per quanto tempo dedicheresti il tuo tempo libero che hai per creare contenuti senza un metodo vedere che la tua pagina non cresce mai vedere che non hai ricavi non hai clienti per quanto tempo lo fai un mese due mesi io due mesi la maggior parte delle persone molla ma anche un mese per quanto tempo sei disposto a dedicare il tuo tempo libero per non vedere risultati sapendo che ti stai muovendo senza un metodo sapendo che ti stai muovendo nel buio per quanto un mese due mesi tre mesi un anno non penso proprio che fai un anno in totale confusione senza un metodo senza vedere clienti tendenzialmente dopo due o tre mesi che non vedi dei piccoli miglioramenti mollerai dirai piuttosto questo tempo libero lo dedico a uscire con i miei amici e tutto e rimani incastrato nel tuo nel tuo mondo che sappiamo tutti che nel mondo dello sport offline è sottopagato ti parlo da collega perché lo so io ho fatto una scelta andare offline o andare online sono andato online nel 2019 e mi ha portato a determinati determinati risultati ma so benissimo la realtà dell'offline magari vai alla virgin quindi pagare un affitto prima di lavorare di 1000 euro sono 12.000 euro all'anno per la virgin è un business per loro hanno 12 magari hanno 10 personal trainer questi all'anno aggiungono al loro fatturato 100.000 euro perché ci sono dei personal trainer e tu non ti accorgi che loro lucrano su di te perché tu non ti sai vendere non hai una palestra e quindi come fai ad ottenere clienti perché il tuo unico pensiero quando esci dalla scuola è che per te per poter lavorare hai bisogno di una palestra per far sì che la persona si allena quindi per te sembra come se è la strada più semplice ok però aprite gli occhi c'è l'online detto questo non è molto intelligente lavorare prima di lavorare devo pagare quindi per lavorare io devo pagare 1000 euro adesso ti parlo di Milano o magari se sei in una palestra un po' più piccolina piuttosto che chiederti l'affitto magari la lezione per un cliente viene pagata 40 euro la palestra si prende 25-30 euro sulla tua tariffa vuoi continuare quasi tutta la vita un lavoro instabile precario non lo so ci sta a sbagliare nel senso io dico sbagliare perché so che nessuno delle persone che guarderanno questo video nessuno dei preparatori o personal trainer magari si era immaginato questa realtà nessuno vuole lavorare 12 ore per avere uno stipendio neanche dignitoso magari arriva 1200 1300 però stai lavorando 12 ore quanto tempo libero hai magari fai fatica a mangiare con calma ad allenarti tanti persone che conoscono non hanno tempo nel senso possono guadagnare 2000 euro anche 3000 in palestra ma letteralmente devono hanno 10 minuti per mangiare tutto di fretta non hanno tempo per allenarsi cioè non sanno quando si alleneranno perché devono incastrare tutto se magari manca un cliente allora si mettono nella seduta cioè vuoi continuare così a 40-50 anni non penso perché anche hai dedicato tantissimi anni di studio e sicuramente ti stai aggiornando in maniera continua perché le figure come personal trainer preparatori atletici quello che ho visto siamo persone che vogliamo continuare ad aggiornarci prendere formazione nuova per portare migliori risultati ai nostri clienti perché è la nostra passione però stiamo investendo comunque soldi in questi corsi di formazione e tu non ti rendi conto che stai facendo una formazione al 50% ti manca l'altra formazione che ti aiuta effettivamente a monetizzare le tue competenze come fai a essere il miglior coach se magari dici voglio essere il miglior coach in questa come preparatore atletico se non hai clienti come fai a eccellere nella tua carriera come fai quindi io la mia missione è quella di aiutare queste persone ok nel posizionarsi online e di fargli capire che questa è la scelta non è quella dell'offline non ti sto dicendo che non puoi non potrei lavorare offline magari sì quelle due ore perché ti piace magari è una squadra di calcio magari hai dei clienti con cui ti piace allenarti dal vivo ci sta questo però non devi basare sull'offline devi basare tutto sull'online poi il tempo libero che tu hai un po' offline magari c'hai i tuoi clienti che segui dal vivo perché comunque ti piace spronare le persone dal vivo ma non puoi basare sull'offline hai già capito che fine farai ho persone che entrano con me a parlare e mi dicono che hanno quattro lavori tre lavori magari iniziano alle sei e mezza del mattino finiscono alle 22 da lunedì a sabato non penso che lo farai a 40 50 anni come fai a questa vittima famiglia come fai a slegarti magari dai tuoi genitori avrai sempre bisogno dei tuoi genitori quindi direi che è finito il training voglio dare un bonus nel senso che voglio regalare qualcosa se mi iscriverai ok in privato che ti è piaciuta la lezione mi dai anche un feedback e tutto ti darò un bonus quindi adesso devo capire il bonus magari ti faccio entrare gratuitamente in una call di gruppo con i miei clienti per vedere un attimo l'ambiente che c'è dentro il mio programma o magari un altro video gratuito devo ancora decidere però tu scrivimi dammi un feedback che hai visto il contenuto ti è piaciuto è stato interessante ti è stato d'aiuto io ti regalerò un bonus un qualcosa aggiuntivo invece se sei già pronto ok perché ti sei stufato della situazione che c'è nell'offline vuoi monetizzare le tue competenze ok mi scrivi che andremo a fissare una chiamata conoscitiva attenzialmente faccio due call una chiamata conoscitiva video call conoscitiva per conoscere la persona conoscerci vedere se ci sono tutti i presupposti per far sì che tu sia adatto per il mio programma e poi nella seconda call ti vado a spiegare il mio programma e l'investimento che richiedo ovviamente l'investimento che richiedo cioè non entrare pensando che è un investimento da centinaia di euro è un investimento da migliaia di euro ok io ti sto aiutando nell'avviare un'attività o faccio prima comunque dei contratti dove abbiamo delle garanzie che ti do quindi prima magari di scrivermi di entrare in call vatti a vedere bene i risultati che hanno avuto i miei clienti che hanno lavorato nel 2022 un ragazzo Giulio Sembinelli 21 anni non ha mai visto uno stipendio ok guadagna più di un dottore ok non posso dire i guadagni dei miei clienti comunque in maniera precisa perché c'è degli accordi di privacy detto questo ha un team di tre persone ok che sta gestendo un ragazzo di 21 anni e vai a vedere le sue pagine e ti rendi conto completamente da zero questo ragazzo è partito ok da zero mentre stava facendo l'università mi ha conosciuto e abbiamo avviato la sua attività quando ha preso l'anno in cui ha preso la laurea che era l'anno in cui abbiamo iniziato lavorare già lui stava guadagnando più di un dottore italiano e quindi si trova ad aver finito l'università ad avere un'attività che genera migliaia di euro con clienti già subito ha finito la scuola già aveva già dei clienti già stava monetizzando le sue competenze e stava facendo esperienza ok ha un vaccino di utenza di clienti dai 50 ai 60 clienti al mese quindi capisci che la sua velocità nel diventare un bravo coach è più veloce rispetto a te che alleni quante persone allenerai pochissime questo ragazzo ha 22 anni scusate da qui a 3 anni quante esperienze farà grazie alla sua attività di coaching rispetto a te ovviamente ha tempo libero libertà soldi per permettersi di pagarsi i migliori istituti in termini di formazione perché comunque è un ragazzo che investe molto e quindi riesce a capire che l'online ti apre tutte le porte non c'è uno svantaggio nell'online cioè non ti posso dire una bugia mi chiedi ok c'è qualche svantaggio non c'è uno svantaggio che svantaggio c'è offline invece ci sono tanti svantaggi per guadagnare una cifra discreta definiamo discreta perché comunque guadagnare 2000 euro lavorando 12 ore al giorno magari sì per un ragazzo può essere tanto ma non puoi farlo a 35-40 anni non lo puoi fare quindi non è discreta ok quindi lo svantaggio dell'offline lo sappiamo bene soldi non si è pagato bene tempo non avrai tempo per te non hai libertà perché per guadagnare soldi devi essere in presenza con il cliente vai in vacanza non stai guadagnando ci sono delle feste non stai guadagnando come ho fatto una storia a un mio cliente c'era Pasqua non so quando guarderete questo video qua e lui stava fissando appuntamenti e facendo entrare persone quindi anche nelle feste guadagnava questo è il bello dell'online il mio consiglio è di sfruttare questa opportunità perché siamo nel 2023 non è che è appena nato internet di renderci conto effettivamente che siamo in un mercato in crescita grazie alla pandemia ha accelerato sempre di più questa cosa qua il fatto che ormai la maggior parte delle transazioni vengono fatte online magari se c'era qualche persona che aveva qualche credenza aveva un po' paura adesso va a pagare magari su Amazon tutte queste cose qua anche persone di 40 45 anni la pandemia ha accelerato questa cosa qua e il settore del coaching è un mercato continuamente in crescita tutte le persone andranno già adesso la maggior parte delle persone quando cercano un coach guardano online guardano cioè non è che fanno questo pensiero ah andiamo in palestra a vedere che tipo di coach ci sono no ma pensano vediamo chi seguo chi è che seguo ho visto questo ragazzo che seguo andiamo a scrivere per informazioni o vediamo su Instagram che tipo di coach questo quindi hai visto come la il metodo in cui una persona sceglie magari per un servizio è cambiato guarda online quindi vuoi stare al passo è vero hai fatto hai studiato tutto a scuola magari lì ti hanno detto altre cose ma vuoi stare al passo al mercato o vuoi rimanere indietro se rimani indietro quindi devi che offline sai già gli svantaggi se invece entri nel mercato ti muovi insieme al mercato che è un mercato in crescita allora sai già che vantaggi potrai avere detto questo mi sa che ho fatto un video bello bello lungo ma pieno pieno di valore ok vi lascio qua le domande se volete fare lo screen e se volete fare lo screen dello schemino ve lo lascio qua un attimino qualche secondo detto questo lasciate like al video così mi aiutate a spingere il video e farlo vedere anche a più persone a spingere il video